Non sapete cosa fare da mangiare e siete anche a dieta? Anche io! E per la gioia di mio marito, che ormai detesta le zucchine, ho preparato questa insalata facilissima e velocissima, con le zucchine ovviamente basilico, menta, olio, limone e sale. Io prima di tagliarle lo sbollentate qualche minuto, ma se volete potete anche usarle crude. L'insalata di zucchine è buonissima, facilissima, super freschissima e anche oggi allacciate il gremiule e provatela anche voi. La volete una ricetta facilissima, semplicissima, velocissima e soprattutto senza cotture perfetta per l'estate? Non so quanti di voi amano i cetrioli, io personalmente li detesto, ma fatti così piacciono anche a me. Mettete tutti gli ingredienti nella ciotola, aggiungete origano, sale e olio ed è già pronta. Perfetta per l'ufficio, ma anche da portare al mare e anche oggi, come dico sempre, allacciate il gremiule e provatela anche voi. Lo so che non avete voglia di cucinare, a dire il vero nemmeno io. Che novità, eh? Comunque, più che una ricetta, oggi vi voglio dare un'idea facilissima e freschissima da portarvi al mare. Voi che potete, io devo studiare con mia figlia che si deve preparare per l'esame di terza media. Ma sorvogliamo questo argomento perché tanto so che non ve ne frega un tubo. E andiamo diretti alla parte bella di questa ricetta, il condimento, che si fa con limone, scorza e succo, sale, pepe e olio. Io ci ho condito l'insalata di ceci con pomodorini, cipollotto e insalata, ma potete usarla per qualsiasi cosa. L'insalata è pronta, io vado a studiare e come dico sempre, anche oggi allacciate il gremiule e provatela anche voi. Non sapete cosa fare da mangiare? Nemmeno io! Ma arrivati a questo punto, me ne frego del meteo, ma io mi sono stufata di zuppe minestre. Basta, voglio una ricetta fresca, come questa insalata di patate, ma al posto della maionese ho messo lo yogurt greco. Poi ho aggiunto anche cetriolo, mais dolce, aglio e un pochino di limone. E ovviamente olio e prezzemolo. Questa ricetta è buonissima e facilissima. La parte più difficile sarà bollire le patate. Quindi ricapitolando, provate questa insalata di patate senza maionese perché secondo me è buonissima. E anche per oggi allacciate il gremiule e provatela anche voi.